La Fondazione NUMAC oggi ha ospitato il professor Bruno Basso della Michigan State University che ci ha illustrato il futuro dell'agricoltura e quanto l'agricoltura digitale governata dalla sensoristica e dalle decisioni, soprattutto dall'approfondimento dei dati di produzione, il rapporto tra la produzione e il one health cioè il suolo, l'ambiente, il territorio siano compatibili con la vita di tutti, quindi l'agricoltura non impattante ma l'agricoltura che deve essere inserita all'interno di un agroecosistema che sia il più possibile salubre, utile ed economico. Quindi il professor Basso che è un leader nel settore mondiale di questo ha illustrato nel suo seminario quali sono le tecnologie che usa e quali sono anche le finalità per cui le usa e quanto l'agricoltura americana in questo momento è all'avanguardia rispetto a quella europea.